Il comune di Castellaneta guarda con attenzione alle risorse del PNRR soltanto negli ultimi giorni, quattro i progetti presentati, un nuovo asilo nido, il piccolo principe in zona IMS, la riqualificazione della menza della scuola Pascoli, la riqualificazione della palestra e delle aree sportive all'aperto, delle scuole Surico e de Amicis. Noi abbiamo l'obbligo anche morale rispetto alla nostra popolazione, alla nostra città, di provare quantomeno a sfruttare tutte le occasioni. Sindaco, avete pensato di costituire una task force specifica? Le diverse aree tecniche in particolare, quindi area patrimonio e manutenzioni, area lavori pubblici, anche area urbanistica, tutti quanti stanno contribuendo con 1-2 persone a creare questa task force che vede ovviamente il mio coordinamento e dei miei assessori, di alcuni consiglieri. Un po' tutti siamo impegnati a fare squadra perché vogliamo candidare quanti più progetti possibili sperando poi di riuscire magari a intercettare anche tutti i finanziamenti. Le direttrici quali sono le priorità che individuerete? Sicuramente le scuole, le scuole devono essere demolite e ricostruite laddove vi sono le condizioni, devono essere efficientate, devono essere adeguate sismicamente. Dopodiché dobbiamo investire sul dissesto idrogeologico, quindi mettere in sicurezza quelle parti di territorio che ancora sono a rischio. E poi continuando anche con progetti relativi al sociale, relativi alle infrastrutture, soprattutto quelle viarie, anche di valorizzazioni di parti importanti del nostro territorio, due su tutte. Il centro storico affacciato sul nostro bellissimo arco gravinale e la nostra splendida marina.